Aggiornamento di Sheldani del Per la Gerarchia Spirituale e la Federazione Galattica. 9 agosto 2011. Drazo. Torniamo a voi. Gradualmente, il vostro mondo si sta magicamente trasformando. Il vecchio ordine, l'ultima cabala oscura, ha allentato la sua presa. Coloro che rappresentano i nuovi metodi della luce hanno adottato le adeguate misure per accertarsi che il lungo incubo attraverso il quale avete vissuto per generazioni e per millenni, sia giunto al termine. Il vostro periodo di consapevolezza limitata è simile ad uno stato di ibernazione parziale. Gli eventi, che si sono verificati hanno messo in discussione l'esistenza di quella che fu una potente entità. Gli oscuri stanno osservando il modo in cui stanno svanendo le loro ricchezze e le loro risorse, in precedenza immense. Questo è stato reso effettivo da una serie di speciali accordi, e da alcune grandi nazioni, che sono in procinto di utilizzare il loro crescente prestigio e la loro diplomazia, con l'obiettivo di definire un nuovo sistema economico, e un modo per rimuovere dal potere gli importanti governi degli oscuri. Un tale cambiamento al potere è per gli oscuri quanto di più sconcertante. La cabala e i numerosi suoi associati non sono ancora pronti ad ammettere la sconfitta e a permettere il manifestarsi di questa nuova realtà. Una serie di accordi, un gruppo speciale di Agartha, e la Federazione Galattica, stanno preparando la strada per la vostra nuova realtà. Questa nuova realtà si basa su un innovativo prototipo finanziario e governativo che, a sua volta, farà riferimento alla trasparenza e ad organizzazioni progettate per servire voi, in ogni vari interessi personali. Questo nuovo modello sociale avrà bisogno di una serie di informazioni per soddisfare le necessità di coloro che dovranno servire, e di conseguenza, sarà opportuno per voi interagire quotidianamente con queste nuove organizzazioni. Banche e servizi finanziari saranno tenuti a trattare tutti i clienti come se fossero ricchi e facoltosi. In realtà, voi siete destinati a diventarlo presto. Inoltre, anche il governo di transizione richiederà un costante dialogo con voi. Tenete a mente che in una società il governo esiste per dare un servizio ai cittadini. Questa necessità darà luogo a comitati, e ad incontri quotidiani tra i cittadini, in cui le persone potranno far presente eventuali rimostranze, e fornire suggerimenti utili per migliorare l'interazione tra governo e cittadini. In questa nuova realtà, si evolverà dall'inadeguatezza creata dagli oscuri, ad una realtà in cui sarete chiamati a contribuire responsabilmente, per rendere il nuovo metodo di lavoro efficace ed efficiente. Sarà responsabilità di ciascuno di voi fare in modo, che questi nuovi modelli economici e governativi funzionino adeguatamente. I Maestri Ascesi e la Federazione Galattica hanno predisposto le risorse per finanziare questo nuovo modello economico. Lo stesso discorso vale per i nuovi governi di transizione. In questo caso, i diversi gruppi, che segretamente si sono dedicati alla luce, i gruppi di Agartha e un certo numero di individui estremamente ricchi e ben posizionati, si sono riuniti per garantire che questi nuovi governi di transizione abbiano le competenze necessarie per avere successo. L'elemento essenziale sarete voi che siano benvenuti questi momenti per collaborare insieme, utilizzando ciò che il Cielo ha, in un modo così miracoloso, portato fino ai vostri piedi. Noi della Federazione Galattica veniamo per assistere, consigliare e guidare tutti voi. I Maestri Ascesi a loro volta sono profondamente intenti nell'assistervi, affinché questi passi preliminari portino ad un vostro rapido ritorno alla piena consapevolezza. Il vostro destino è assicurato. Gli ex agenti degli oscuri si stanno preparando per la loro uscita ingloriosa dalla vostra vita. È giunto il momento per veder nascere un nuovo mondo pieno di luce. Il primo contatto è un evento meraviglioso, ed è previsto che avvenga nel giusto momento divino. Siamo pronti ad intervenire non appena il Cielo ci dirà di farlo. Fino ad allora, come potrete osservare, saremo impegnati in compiti atti a supportare i nostri alleati di Terra e i vostri Maestri Ascesi nell'assicurarvi un nuovo Regno di Luce. Abbiamo utilizzato i nostri talenti per elaborare una opzione galattica per rimuovere l'ultima cabala oscura dalla loro precedente posizione di indiscusso potere. I Maestri Ascesi hanno formulato un piano complesso per manifestare il vostro nuovo Regno pienamente consapevole. La maggior parte di questi delicati schemi si sta manifestando. Il nuovo piano finanziario è già segretamente in vigore in molte parti del mondo. Le enormi quantità di oro e di argento necessarie a copertura delle nuove disposizioni in valuta forte sono disponibili. Ciò che rimane riguarda la serie finale di manovre che cambieranno l'organizzazione interna del governo americano. L'attuale regime, illegalmente imposto, sta cercando con le azioni attuali di preservare le corporazioni corrotte generate dagli oscuri. Vi giungano le nostre benedizioni. Noi siamo i vostri Maestri Ascesi. Nel corso delle ultime settimane, abbiamo lavorato a stretto contatto con un gruppo di 12 collaboratori appositamente selezionati, provenienti dalle città di Agartha di Shambhala e Telos. Questi individui hanno avuto in precedenza mansioni di collettori di conoscenza, ed erano direttamente informati su tutti i maggiori partiti coinvolti nelle nostre precedenti discussioni con il governo americano. Utilizzando queste informazioni di base, abbiamo sviluppato le strategie il cui scopo principale sarà quello di consentire a questo governo di sottoscrivere ufficialmente gli accordi presi in Europa all'inizio di quest'anno. Inoltre, questi collaboratori ci hanno dato alcuni importanti consigli su dove possono essere tenuti al sicuro quegli individui che stanno per formare il nuovo governo provvisorio americano. Dobbiamo essere in grado di presentare queste persone da un momento all'altro, non appena sarà dato l'annuncio dell'esistenza di questo nuovo governo. I loro importanti consigli riguardano anche il modo migliore per affrontare l'attuale presidente, e su come annunciare il cambio di governo. Questo gruppo specifico ha più di 160 anni di esperienza in materia di aggregazioni. Le forme di governo del vostro mondo si sono evolute in una sorta di club di vecchi amici ed amiche, che rende difficile concludere con successo una serie di importanti negoziati senza la presenza nel vostro gruppo di qualcuno che faccia parte, o che abbia fatto parte di questo club. L'idea di fondo consiste nel far comprendere all'altro gruppo che siamo motivati nel perseguire il nostro intento, e che siamo seriamente intenzionati a portare a termine questi argomenti in modo trionfale. Abbiamo avviato la fase conclusiva di questi colloqui alla fine di luglio, e stiamo ora definendo con successo una serie di punti decisivi con il governo americano. Queste discussioni porranno le basi per la manifestazione di una nuova realtà. I numerosi decisivi eventi che si stanno delineando in varie parti del vostro mondo hanno a che fare, in un modo o nell'altro, con le politiche e le procedure di questo attuale regime. Il risultato finale prevede che queste politiche vengano completamente abbandonate. Siamo impegnati nel negoziare una transizione completa e formale, che cancelli in modo efficace il nutrito elenco di leggi e di statuti, che hanno cominciato a comparire improvvisamente all'inizio della prima amministrazione grant. Gli Stati Uniti stanno per tornare a quella precedente legge costituzionale di diritto comune, che ristabilisce la vostra piena cittadinanza, dando seguito alle vostre richieste per far valere i vostri diritti individuali. Queste affermazioni potranno essere utili per essere estese a livello globale. I nostri team stanno utilizzando questi speciali momenti per creare le strutture ad ombrello, che possono essere impiegate per sostenere questa nuova realtà. Il nostro disegno divino prevede di dare vita ad un regno prosperoso e sano, in cui siate in grado di incontrare le vostre famiglie dello spazio e quelle spirituali, e di avviare un rapporto costruttivo con i vostri cugini della Terra Cava. Questo naturalmente avverrà mentre procederete nel vostro percorso per riacquisire la vostra piena consapevolezza, e le meraviglie inestimabili, che la accompagnano. Oggi abbiamo proseguito con le nostre informazioni, presentando una breve panoramica su come stiamo trasformando la vostra realtà. Questa operazione ha richiesto decenni per arrivare al punto attuale. Mentre ci stiamo avvicinando al momento della vittoria, tenete a mente che le grandi responsabilità, che riceverete richiederanno grande saggezza. Sappiate, carissimi, nel profondo del vostro cuore, che illimitate risorse e l'infinita prosperità del Cielo sono davvero vostre. Così sia. Selamat Gayun. Selamat Yah, in Siriano siate uno nell'amore, siate nella gioia. Traduzione Gualtiero Trattino Costanza 2003 . .